Ingredienti Dosi per 4 persone 500 grammi di maccheroni alla chitarra Salsa di pomodoro Una cipolla Due spicchi d'aglio Un peperoncino Prezzemolo Pecorino grattugiato Olio Sale e pepe Preparazione Rosolare nell'olio la cipolla e l'aglio tritati Unire la salsa di pomodoro Il peperoncino e il prezzemolo tritato Aggiungere sale Pepe e far addensare Cuocere la pasta al dente Condirla con la salsa preparata il pecorino e servire Il piatto è pronto Buon appetito!